Rappresenta una concreta opportunità di reinserimento sociale dopo la pena detentiva il corso di formazione in and out dei jail che ha coinvolto 16 detenuti di cui 6 donne della casa circondariale di Chieti, finanziato dalla regione e affidato alla NXSSRL. L'obiettivo è quello di rendere concreto il reinserimento sociale e professionale dei detenuti dopo la pena. A parlare del progetto è il direttore della casa circondariale di Chieti, Franco Pettinelli. Le finalità essenzialmente sono due. La prima è quella di far acquisire ai detenuti una formazione professionale qualificata, infatti è previsto al termine del corso il rilascio di una qualifica professionale regionale e questo riguarda sia per entrambi i corsi. Abbiamo un corso per pizzaiolo destinato alla popolazione detenuta maschile e poi un corso per sartoria, proprietrice di confezione esattamente, destinato invece alla popolazione detenuta femminile. Diamo che dando questa professionalità spendibile sul mercato vi sia la concreta possibilità poi di trovare un'opportunità lavorativa sia all'interno dell'istituto attraverso le nostre lavorazioni intramurarie o anche durante la detenzione attraverso le misure alternative oppure al termine della pena allorché avviene la scarcerazione. Ci sono già dei progetti che avete messo in piedi e che intendete sviluppare? Noi ultimamente abbiamo stipulato un protocollo d'intesa col comune su lavori di pubblica utilità e quindi devo ringraziare il sindaco Diego Ferrara che ci ha dato questa disponibilità però speriamo di potenziare ancora il laboratorio di sartoria così come il corso di pizzaiolo perché vediamo che ci sono opportunità lavorative all'esterno, c'è una certa richiesta, c'è una certa domanda di lavoro e quindi speriamo poi di fare bene il nostro lavoro facendo non soltanto trattamento ed educativo ma poi portando a termine la nostra opera includendoli socialmente attraverso attività lavorative vere e proprie. Gli risultati raggiunti con il progetto sono stati presentati questa mattina al Museo Barbella di Chieti nel corso di un evento patrocinato dal comune. Paola Vione è la direttrice della NXSRL che è il soggetto attuatore di questo progetto. È un'iniziativa sostenuta e finanziata dalla Regione Abruzzo insieme al Ministero di Giustizia con il quale hanno concertato i fabbisogni formativi che potevano essere applicati e quindi nell'ambito delle case circondariali. Nell'arco di questi mesi che abbiamo svolto il progetto siamo arrivati al risultato di qualificare professionalmente le persone che hanno partecipato ai corsi quindi questo è l'obiettivo dell'inclusione sociale e lavorativa. Ovviamente il lavoro è il primo elemento di inclusione sociale quindi sicuramente abbiamo fatto un lavoro insieme in cui tutti hanno messo un grandissimo impegno a cominciare da chi ha partecipato ai corsi impegnandosi in questa nuova direzione.